no vabbè poi in effetti anche rcs dovrebbe spiegare perché rocca di popa non lo considera un gpm questo è un mistero anche per noi bene siamo arrivati in chiusura di questo episodio io vi ricordo come sempre che potete contattarci alla nostra make è cyclingchronicles.podcast.gmail.com questo nel caso servisse a giulio ciccone sul nostro account facebook e instagram come cyclingchronicles e su twitter come c underscore c underscore podcast tu nicola sarei al corrente del fatto che c'è questa tradizione del pronostico finale a fine a fine episodio in questa occasione io vi chiederò dopo aver chiesto e ottenuto risposta già dal nostro carissimo vincenzo il dottor delle donne chi sarà a vincere la tappa di lago serrù del giro d'italia allora vincenzo ha detto che vincerà simon yates nicola chi vince lago serrù per me arriva fuga di tunnel kangart e cittadella in serie a ma scusate non c'entro ok con questa con questa notizia primo ha cambiato il tuo pronostico il fatto che cittadella ora sia in serie a no non ha cambiato il mio pronostico il mio pronostico è che vince nivan ramiro sosa è interessante bene 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 molto bello molto bello io invece mi prendo miguel angel lopez comunque abbiamo spazzato quattro nomi interessanti tutti tutti e quattro bravi noi così non c'è rischio che ci sovrapponiamo con il pronostico nicola devo farti intanto devo ringraziarti per la partecipazione per la chiacchierata e per la compagnia devo farti i complimenti o non devo felicitarmi per la cosa del cittadella beh cittadella in serie a potrebbe essere la conclusione di un pezzo di calcutta pensalo così poi comunque è la provincia che vince e quindi pensando alla provincia che vince pensiamo non so a un corridore della bardiani che finalmente riesce a vincere una tappa ok ok quindi è una buona notizia ok grazie mille nicola primo grazie mille anche a te per la compagnia e per la chiacchierata ringrazio te ringrazio nicola lo invito a passare a trovarci più spesso perché ci fa molto piacere e ringrazio anche i nostri ascoltatori che ci sopportano ancora dopo 87 puntate più spesso e non più tardi di domani se ho capito bene perché dobbiamo fare il prossimo episodio in cui parleremo di altre cose che non sono il giro d'italia e quindi io vi rimando al prossimo episodio ma prima ancora agli episodi di prima o l'arrivo con tutto quello che vi serve sapere sul giro d'italia a presto ciao ciao ciao